È un attacco codardo contro persone innocenti e giovani indifesi. Molti feriti sono in condizioni disperate e stanno lottando tra la vita e la morte. Così la premier britannica sulla strage a Manchester nel suo annuncio davanti a Downing Street. Sappiamo che l'attentatore che ha colpito l'arena di Manchester è un lupo solitario che ha fatto deflagrare un ordigno vicino all'uscita di Victoria Station, scegliendo in maniera accurata il momento e il luogo per fare la massima carneficina per uccidere. e ferire indiscriminatamente. L'esplosione è avvenuta alla fine del concerto pop, seguito da molte famiglie e bambini. Tutti gli atti di terrorismo sono codardi contro persone innocenti, ma questo attentato si distingue per la sua terribile e disgustosa codardia contro bambini e giovani innocenti indifesi che avrebbero dovuto godersi una delle notti più memorabili della loro vita. una delle notti più memorabili della loro vita. è una delle notti più memorabili della loro vita. è una delle notti più memorabili della loro vita. è una delle notti più memorabili della loro vita. è una delle notti più memorabili della loro vita.